Grandissimo protagonista, autore di una doppietta, sei dato vicino anche al terzo gol, te l'hanno salvato sulla linea. Non so se ti avessero dato l'opportunità di portare a casa il pallone, chissà. No, è stata una gran partita, per fortuna sono venuti anche questi due gol, comunque bella partita da parte di tutta la squadra. Tommy, ti aspettavi un debutto così al Braglia, davanti a questo pubblico, in questo stadio così storico. Forse neanche nei tuoi sogni migliori poteva esserci un debutto del genere? No, beh, di sicuro fa piacere un esordio così, però c'è comunque da andare avanti a lavorare, lavorare, lavorare come stiamo facendo. Raccontici un pochettino, il primo gol soprattutto che ha aperto la scatola fanfulla e poi dopo anche la partita, che è stata una partita di sofferenza nel primo tempo, poi nel secondo tempo è venuta fuori la forza di questo gruppo. Sì, il primo gol è venuto fuori da un contropiede dove siamo stati bravi ad andare subito in porta, abbiamo subito un po' il primo tempo, però poi nel secondo tempo siamo venuti fuori come siamo capaci di fare. È venuto il secondo gol su un cross, ribattuta, sono riuscito a metterla dentro. Sì, hai già segnato sotto il cuore del tifo giallo-blu, sotto la Montagnani. Com'è stato vedere questo entusiasmo travolgente dei tifosi? Ti sono venuti incontro quando hai segnato? Sì, fa sempre molto piacere segnare sotto questa curva che è splendida, doppiamente. È ancora più bello segnare qui sotto, con tutti questi tifosi che vengono sempre a sostenerci. Invece raccontaci il primo gol, il primo gol è stato bravissimo, Calamai ti ha aperto l'autostrada, ma tu sei stato bravo a infilarti come una lama nel burro lì nella difesa del fanfulla. Poi dopo sei aperto questo spiraglio e hai detto beh adesso tiro. Sì, ho sentito Calamai che mi stava andando in sovrapposizione sulla sinistra. Il loro difensore ha fatto il passo per andare a chiuderlo, io sono andato dritto a calciato. Ti aspettavi questa maglia da titolare? Come ho detto, lavoro durante la settimana, lavoriamo tutti insieme, quindi poi sta al mister scegliere gli undici che partono e altrettanto. Ti chiedo un po' delle tue caratteristiche personali. Già hai parlato in settimana, che ci hai un po' raccontato chi è Tommaso Spaviero. Oggi sei stato impiegato come esterno-sinistro, poi ti ho visto anche a destra, insomma nel 4-3-3 mi sembra che hai gamba, forza, riesci ad andare sempre nell'uno contro uno. Caratteristiche importanti per un attaccante. Sì, a me piace giocare alto, sinistra e anche destra senza problemi. Mi piace l'uno contro uno, cerco sempre di andare a crearmi questa occasione. Una chiosa finale, una domanda da giornalisti. La dedica per questa doppietta? Non è che c'è una dedica. Tutti i tifosi che vengono sempre a sostenerci sono sempre qui per noi, che ci danno un sostegno incredibile.